Buon martedì 28 febbraio. La liturgia cattolica di oggi ci offre un passaggio del Vangelo che ritengo sia un invito a maschi e femmine che abitano questo pianeta, indipendentemente dalla fede religiosa, dalle convinzioni che abbiamo tutti noi, ad ascoltare. Ascoltare un invito profondo che ci riporta poi alla dinamica stessa del club nella sua essenzialità. Qual è la visione che caratterizza il club? Io credo che prima di tutto rappresenti un monito rivolto a ciascuno a non cadere nella tentazione di essere talmente egocentrici da poter pensare di dominare l'esistenza. Alcolisti Anonimi nei primi passaggi dei dodici passi invita ciascuno a riconoscere che c'è un potere più grande di fronte al quale non si può fare nulla che qualcuno chiama Dio ed è proprio quel potere che disconosciamo perché siamo sempre tentati a riportare a noi stessi il potere. Famosa l'espressione che anche in altre occasioni delle riflessioni matutine ho richiamato, si sente dire, del senso comune, potere e volere. Quante volte di fronte al reiterarsi di ricadute si cerca in tutti i modi di rafforzare la volontà della persona. Qualcuno ha anche definito l'alcolismo come una malattia della volontà e si cercano tracce neurobiologiche che confermino che la persona è affetta da una malattia psichiatrica e neurologica allo stesso tempo generata o da condizioni genetiche o dalla perseveranza in una abitudine intossicante. Lì si cercano le tracce e forse lì si cercano anche i rimedi o bloccare la volontà della persona o rafforzarla, indirizzarla verso altri modi di interpretare la vita ma sempre all'insegna del rafforzamento del sé, dell'autoreferenzialità. Questo lo troviamo anche laddove si cercano sistemi di cura per la cosiddetta disistima vissuta da molte persone soprattutto in età giovanile ma anche nella vecchiaia. Mancanza di stima, ecco che allora arrivano i soccorsi, potenziamo la propria stima fino al punto di immaginare che l'egolatria sia una garanzia per rendere le persone più serene nella vita, chiuse però in se stesse. Ecco tutti questi elementi che troviamo sia nel senso comune sia nei sistemi di cura, modi attraverso i quali svegliamo come vi sia nell'essere umano una costante tentazione al delirio di ogni potenza. Dominare la terra spesso contestiamo da un punto di vista ecologico la traduzione biblica nella quale si indica l'uomo il permesso, chiamiamolo così, il permesso di abitare e dominare la terra. In realtà il significato autentico di quel passaggio è che l'uomo deve essere custode, giardiniere, pastore. Attraverso il dare un nome a tutti i viventi che abitano questa terra, si impegna a rispettarli, perché dare un nome significa rispettare. Essere molto lontano dunque da qualsiasi tentativo oggettivante di dominio, di possesso, sono tratti essenziali che appunto troviamo nel club, laddove Udo li invita ciascuno a mettersi in discussione, a non farsi protagonista di una forma costante di ricerca di cambiare gli altri senza cambiare se stessi, perché questo è il nucleo centrale del club e credo che il tema dell'alcolismo su questo ci insegni molte cose, come ci ricorda Gregory Bezzo in Cibernetica dell'Io e Teoria dell'alcolismo, un testo che ho letto più volte. Non l'ho del tutto compreso fino in fondo, perché penso che ragionare in termini ecologici ci metta duramente alla prova, perché apparteniamo a una cultura, non possiamo negarlo, che è fondamentalmente anti-ecologica, che immagina un'armonia costruita a partire dalla nostra pienezza di volontà, intenzione e decisione. Viviamo il tempo nel quale il decisionismo è penetrato anche nei sistemi educativi. Vogliamo essere umani pronti, capaci di decidere, con grandi disponibilità volitive, forti, egocentrici, competitivi. Questa è la figura che abbiamo costruito, eppure abbiamo di fronte a noi fuggi di esempi, di impossibilità che tutto questo possa accadere anche attraverso i semplici comportamenti ordinari della vita quotidiana, anche laddove cerchiamo lenimento alle nostre sofferenze, cerchiamo un po' di pace. Indubbiamente tutte le droghe hanno una forza attraente nel promettere, almeno per un istante, una pacificazione della propria esistenza. E il trucco delle droghe è quello di impedirci di cambiare rotta, consumare droghe, legali o illegali, non è un atto trasgressivo, è un atto conformista che si mette in perfetta sintonia con la cultura dominante, la quale, anche con tante tracce di ipocrisia, pensa sempre a rimedi tecnici capaci di rafforzare il nostro egocentrismo e il dominio sulle relazioni che viviamo. Celebriamo la politica attraverso l'idolatria del leader, abbiamo costruito partiti che sempre più sono rappresentati dal leader di turno, abbiamo perso di vista totalmente il complesso intreccio, di valori, di riferimenti che trascendono l'esperienza contingente, affondano le radici sulle domande profonde che gli esseri umani si sono sempre posti nel loro abitare la terra. Non è che la politica in questo deve trasformarsi in una sorta di filosofia astratta, ma la politica ha il dovere sacrosanto di di mettersi al servizio di questa ricerca umana per dare armonia alla città. Politica deriva da polis, le relazioni della città che ospita la città, una molteplicità di diversità che insieme costituiscono la ricchezza evolutiva della vita nella città. La politica dovrebbe essere bella per questo, non perché c'è una aspirazione a diventare leader da parte dei protagonisti, ma perché è il luogo autentico nel quale le persone riconoscono di essere parte e cercano in tutti i modi di costituire una vita comunitaria rasserenante e rassicurante, ma non collettivista, capace di rispettare la singolarità, l'originalità di ciascuno, anche la diversità, sì perché l'originalità implica in sé che siamo tutti diversi, ma apparteniamo a un'unica matrice complessa, ecologica, nella quale si riassume biologia, vita culturale, spiritualità e naturalmente politica. Questi sono i profondi tratti che caratterizzano il nostro modo di vivere e pertanto vengo al testo del Vangelo di oggi, nella traduzione che è coordinata da Enzo Bianchi, edita da Inaudi, almeno credo sia questa, la versione che troviamo nella sua riflessione di oggi sulle giornate quaresimali, nel senso che potete trovare nel blog di Enzo Bianchi, tutti i giorni per il tempo della quaresima, una sua riflessione molto interessante e che cercherò anche di divulgare attraverso le chat. è la preghiera del Padre Nostro. In questa espressione ci ricorda Enzo Bianchi, Padre Nostro, è Padre, non è un Dio onnipotente, è un Padre. E questo è molto difficile da interpretare perché se c'è un Padre ed è nostro significa che non è il Padre mio, è il Padre di fratelli e sorelle che abitano questa terra, tutti accomunati da un'unica origine, tutti abitanti un'unica terra, il globo terrestre. E in realtà poi noi ci siamo disposti erigendo barriere tra di noi, fino al punto che siamo capaci di chiudere ponti anche nelle relazioni intime e affettive. Padre Nostro. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, pregando poi, non blaterate come i pagani, blaterare, cioè buttare lì tutta una serie infinita di parole, troppe parole. Nel commento, per chi ha voglia di andarlo a sentire, troverete che Enzo Bianchi richiama addirittura Lucrezio, il quale diceva che le preghiere dove si moltiplicano le parole hanno solo l'effetto di affaticare gli dèi. Troppe parole noi formuliamo, blateriamo, sono infatti convinti di poter essere esauditi grazie alle loro molte parole. In qualche modo questo passaggio ci riporta alla cifra dell'esistenza nell'era della comunicazione. Quante parole vengono gettate al vento nei talk show, quante, e ci si dà da fare per diventare forieri di un discorso fluente che abbia lo scopo di manipolare il prossimo, di convincerlo. Ecco, poi c'è il passaggio successivo, un invito prima di non formulare troppe parole. Badate dunque di non assomigliare a loro, ai pagani e agli ipocriti, perché c'è un altro modo che precedentemente troviamo nel Vangelo relativamente alla dimensione della preghiera. Fallo in maniera discreta, non ostentarlo. Quanti cristiani ostentano la loro ritualità? Semplicemente per mettere in mostra a se stessi, esattamente come fanno molte persone che frequentano il club, i quali si danno un gran da fare per ostentare la loro astinenza, la loro disponibilità a soccorrere il prossimo. Non farlo, non ostentare. Ritienilo in te stesso, riservato. In qualche modo fai i conti con la tua interiorità, senza sottrarti mai alla relazione. Il padre vostro infatti sa bene di che cosa avete bisogno, ancora prima che gli facciate una richiesta. A voi dunque dovete pregare così. E qui il modo l'aveva insegnato in maniera riservata, non ostentativa. E poi passa ai contenuti, che sono contenuti a mio parere profondamente antropologici, indipendentemente da una appartenenza religiosa o a nessuna appartenenza religiosa. Siamo abituati a distinguere credenti e non credenti. In realtà il Cardinale Martini ci ricordava come dovremmo essere invece inclini a distinguere tra persone che pensano e persone che non pensano. E anche tra i credenti ci sono molte persone che non pensano, che blatterano, che ostentano, che non sono disposti a riconoscere un padre unico e riconoscere nell'altro il fratello che bussa la porta, la sorella che bussa la porta. Viviamo le nostre realtà geografiche con l'intenzione di chiudere le porte al prossimo, difendendo le nostre tradizioni, la civiltà cristiana. Pensate un po', generare violenza in nome della difesa della civiltà cristiana, una bestialità del genere. Io credo che, sì, ci stia come un esempio fulgido della pochezza dell'essere umano, ma è una condizione che dobbiamo imparare, imparare, sì, a superare attraverso la quotidianità le relazioni interpersonali. E qui c'è l'avvio di questa traccia di preghiera relativamente ai contenuti, sempre con il richiamo alla semplicità. Padre nostro, che sei nei cieli, non nell'iperuraneo, non volgiamo semplicemente lo sguardo in alto per vedere dove stia Dio. Qui si parla di ciò che noi non possiamo percepire, che trascende la nostra possibilità di percezione, che rimane nascosto, sì, nell'universo, ma anche nella nostra intimità, l'inconsapevole, ciò al quale noi dobbiamo porre attenzione, per porci nella dimensione dell'ascolto, dell'ascolto di un padre, delle nostre vite comunitarie, che è al di fuori della nostra possibilità percettiva. Si manifesti il tuo nome santo, il nome, non un leader potente, il nome santo. Questo si deve manifestare, la tua parola incarnata, la parola che si è fatta carne. Passaggio antropologico fondamentale questo, non siamo qui a immaginare la discesa in terra di un re potente. E questa è un'attesa che anche gli atei hanno, quando costruiscono un'ideologia, la affidano a un uomo potente, si assoggettano e sperano che poi le cose vadano bene, rinunciando alla propria libertà. Una sorta di consegna alla schiavitù. Qui invece c'è un profondo invito alla liberazione. Padre nostro che sei nei cieli, si manifesti il tuo nome santo. Venga il tuo regno, non il nostro, il tuo. Non il regno di Tizio e Caio. Il regno, non so, nel Guerra Fredda c'era il regno del socialismo reale e il regno del mondo liberale. Due regni insufficienti, incapaci di interpretare in modo autentico l'essenzialità della vita umana. E oggi siamo ancora di fronte a questa contrapposizione che genera guerra. Ma anche nella relazione intima e interpersonale spesso noi cadiamo nella trappola della guerra. Sia il mio regno a dominare l'esistenza perché io ho le tracce della normalità. Tu che sei deviante non hai nessun diritto, sei alcolista, depresso, schizofrenico. Accetta il mio regno, il regno della normalità. Sottomettiti. Io ti garantirò la salvezza, la cura, la guarigione dalla tua devianza. Si manifesti il tuo nome santo, venga il tuo regno. Si compia, ecco qui c'è il passaggio fondamentale, la tua volontà. Non abbiamo riconosciuto che c'è un potere più grande di fronte al quale non si può fare nulla e che qualcuno chiama Dio. È il primo passaggio dei dodici passi. Sono sostanzialmente una preghiera laica nella quale scopriamo che tutto sommato l'alcolista ricadendo mette in evidenza come sia insensato il nostro riferirsi alla volontà. Sì, perché la volontà non spinge all'astinenza, porta inevitabilmente alla ricaduta e l'astinenza come espressione di essere finalmente diventati protagonisti di una volontà salvifica. Quella astinenza fa sì che noi ci sottraiamo alla dimensione della trascendenza, che sta nella intossicazione, che svela la nostra incapacità di accettare che si compia la volontà sovradeterminante l'esistenza su questo pianeta. Che sia il padre nostro o la dimensione ecologica non cambia assolutamente nulla. La volontà è nella vita alla quale apparteniamo e che siamo chiamati a coltivare con perseveranza, abdicando rispetto alla nostra tentazione a essere protagonisti ferrei di una volontà che esprime poi la sua potenza attraverso il controllo e il dominio sulle nostre esistenze. Come in cielo, così in terra, così sia nelle nostre relazioni quotidiane concrete e così sia anche laddove non siamo in grado di cogliere ciò che sta accadendo, nella nostra dimensione consapevole e inconsapevole. E qui poi andiamo all'essenzialità della richiesta, dacci oggi il nostro il pane che ci fa vivere, il pane, sottolinea Enzo Bianchi, il pane che viene dalla terra, che deve essere lavorato, che richiede fatica. Qui si parla dei bisogni essenziali e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Qui entriamo in una dinamica che richiederebbe un approfondimento molto più lungo e articolato. Veniamo al mondo con un debito accumulato dalle generazioni che ci hanno preceduto. Le generazioni che vengono dopo di noi alla nascita hanno già un debito, ma questa logica del debito, che non viene mai rimesso, è una logica devastante che porta alla desertificazione del pianeta, alla carestia, alla guerra e all'ingiustizia sociale. Rimettere i debiti, cancellare i debiti, ma dobbiamo farlo a partire da noi stessi, i quali molto spesso siamo incapaci di cancellare la logica perversa di debiti e crediti, che sono le rivindicazioni che formuliamo sulla base dei torti che pensiamo di aver subito. Siamo dei creditori inflessibili, i quali vogliono massacrare il prossimo sulla base delle colpe che hanno commesso, sui debiti, attenzione, non ci sentiamo coprotagonisti di quel gioco perverso di debito e credito, di senso di colpa e di perdono. Cancellare significa allontanarsi dalla logica vittima colpevole, cancellare i debiti, questo è il punto fondamentale nella nostra coscienza e nel nostro modo di vivere. E non lasciarci entrare nella prova, non metterci alla prova. Questa è la richiesta che viene fatta al Padre nostro, non metterci alla prova perché noi siamo esseri fragili, costantemente tentati dalla prova. Di essere messo alla prova è una condizione che è quasi fisiologica negli esseri umani, messa alla prova relativamente alla nostra idea di potere, di volontà, di intenzione, di decisione, ma preservaci dal maligno, da ciò che divide, dal diabolico. Questa è la grande condizione della prova umana, quella di superare qualsiasi idea divisiva. Se voi infatti avete rimesso agli uomini le loro trasgressioni, rimettere agli uomini le loro trasgressioni è un compito che è affidato a ciascuno di noi. I disturbi del comportamento sono vissuti come espressione di una trasgressività dissipativa. Consumare sostanze psicoattive, legali o illegali, scommettere, andare a fare shopping in maniera compulsiva e tante altre cose. Tutte queste sono forme trasgressive. Avere una crisi psicotica pantoclastica, spacco tutto. Ho una rabbia dentro di me che è generata dalla mia dimensione paranoica, che è poi a sua volta generata da quella società della paura e dell'inganno. Tutto questo rappresenta una trasgressione immaginata relativamente alla ordinarietà della vita quotidiana, quella che noi definiamo essere la normalità. Se voi infatti avete rimesso agli uomini le loro trasgressioni, vita del club, rimetti agli alcoolisti, ai tossicomani le loro trasgressioni, cancellali, accoglili nella essenza della loro persona. Questo è l'invito. Senza ombre di pregiudizio generato dalla dimensione percettiva della trasgressione, liberarsi dall'idea della trasgressione, il Padre vostro celeste le rimetterà anche a voi. E quindi questo indirettamente significa che anche noi, che pure ci sentiamo particolarmente normale, perché anche tra i trasgressivi c'è sempre quello più trasgressivo di te, e quindi non riconosci la tua trasgressione, che può essere anche infinitesimale, ma solo una questione quantitativa, qualitativamente, sempre di trasgressioni si tratta. Quindi cancelliamo la trasgressione partendo dal fatto che la riconosciamo in noi e che non siamo noi i primi protagonisti della cancellazione della stigmatizzazione applicata alla trasgressione. E al di fuori della nostra possibilità chiediamo sommessamente di essere capaci di percorrere una strada ecologica nella quale non vi è più una dicotomia tra normalità e devianza. Ma se voi non le avete rimesse agli uomini, neanche il Padre vostro rimetterà le vostre trasgressioni. È un richiamo forte alla dimensione etica, che non è l'obbedienza a una morale, ma il riconoscere che nell'ordinatività della vita quotidiana noi non siamo i giudici assoluti degli altri, anche attraverso i processi diagnostici applicati nel campo della psichiatria, della salute mentale. È una forma di giudizio che fa identificare la persona con il sintomo che esprime. Qui entriamo in un altro ambito che dovremmo certamente approfondire e che, ripeto, una lettura del testo del Vangelo di oggi ci invita a approfondire giorno dopo giorno in questa semplicità. Proviamo a pensarci senza pregiudizi derivanti dal fatto che, siccome è un testo religioso, questa è roba per cattolici. Non riguarda l'universo dell'umanità. E io invece ritengo che questo riguardi ogni essere umano, qualunque sia il luogo geografico che vive, la cultura alla quale appartiene o al credo religioso che esprime o non esprime. Buona giornata a tutti.